Buongiorno a tutti, da Antonio Castiotta per l'angolo del cittadino. Mi è giunta una segnalazione da parte di alcuni corridori di Manfredonia che usano questa strada per i loro allenamenti e mi sono portato qui, in effetti, per verificare quanto mi è stato denunciato. Ecco, qui è stato ripristinato l'asfalto, per dire ripristinato l'asfalto, quindi potete vedere una lunga striscia di asfalto, diciamo che giunge fino al termine di questa strada, via degli eucalipti assiponto, mi giro e qui siamo nei pressi del maneggio, ovviamente, dei cavalli. Ecco, vi volevo mostrare, diciamo, questo ripristino ha già in sostanza ceduto. Qui c'è una grossa buca, è davvero pericolosa questa buca. Perché è pericolosa? Poiché negli attimi che sono stato qui è passata una macchina, poiché l'asfalto dall'altra parte è tutto quanto dissestato, e, diciamo, le macchine generalmente, vedete, questo è un ripristino, diciamo, fatto a regola d'arte, tra virgolette, ha già ceduto, ci sono dei grossi avvallamenti, adesso vedete le macchine come si allargano, vedete questa macchina che sta arrivando, come si sta allargando sulla sua sinistra, adesso io non riprenderò la targa, vi farò vedere nel momento in cui giungerà qui, come, praticamente, percorrerà il lato sinistro della cariciata, anziché mantenersi a destra, anche perché è pericolosissimo a destra, è molto pericoloso. Ecco, vi faccio vedere, vi faccio vedere questa buca, ecco, come potete vedere io non riprenderò la macchina, che è passata, diciamo, strettamente a sinistra. Quindi è un grosso pericolo, questo ripristino, diciamo, andrebbe rivisto assolutamente, poiché vi è questa grossa buca, immaginate le macchine che provengono da quella direzione, quindi direzione Foggia, per andare verso il centro di notte, magari la velocità deve essere commisurata, certo, a 50 orari, però in questa buca la macchina potrebbe sbandare e terminare nel cosiddetto fiumetto, così lo chiamano, che è qui accanto. Ecco, volevo concludere per dire che, diciamo, la scorsa settimana segnalai una buca in via Cimarrusti numero 9, che adesso continueremo a vedere nelle immagini, diciamo, che verranno sovrapposte a queste immagini, ebbene, questa buca non è stata ancora riparata. Una buca, diciamo, insidiosa, poiché ogni volta che passano le macchine e quando piove l'acqua, diciamo, perviene all'interno dell'abitazione della persona che ha l'abitazione in effetti accanto a questa buca. Ecco, proprio stamattina, nell'aprire i social, leggevo di un articolo pubblicato dalla Repubblica, dove a Roma, quindi la Repubblica ha dato risalto a questa notizia, un ragazzo a causa di una buca presente sul manto stradale è incappato con la ruota del proprio scooter, e purtroppo è stato sorbazzato contro il muro di un'abitazione, e questo ragazzo purtroppo ha perso la vita. Ecco, direi di non sottovalutare assolutamente queste insidie stradali, soprattutto gli organi di competenza, in questo caso l'ufficio tecnico, che vengano a verificare queste buche, questa qui, diciamo, in via degli Eucalipti, vicino al meneggio, l'altra praticamente in via Cimarrusti, che ho segnalato, ma ce ne sono tantissime a Manfredonia, quindi, poiché vi sono delle imprese che stanno eseguendo dei lavori, e quindi, giustamente, è importante, diciamo, installare la fibra, però i ripristini che siano effettuati a regola d'arte, poiché va monitorato il territorio, poiché se ci sono situazioni di questo tipo bisogna intervenire immediatamente, poiché costituiscono certamente un grave pericolo per le autovetture, per i pedoni, per i motociclisti. Qui è un attimo che si finisce nel fiumetto. Grazie a tutti, da Antonio Castrotta, per RM Centro e Stato Quotidiano.